messaggio video dal telefonino e ovviamente anche se l'immagine non vengono tanto bene un bacione tanto sorrettino veramente di cuore allora cosa volevo dire che la violenza sulle donne ecco che abbiamo anche passato la data del 25 novembre la violenza sulle donne diciamo a livello mondiale io ho scritto e girato un cortometraggio un cortometraggio la violenza ti segue praticamente questo verrà trasmesso in televisione in varie televisioni della campagna e non è ovviamente diciamo che sotto natale verrà presentato in una televisione della campagna diciamo 6 tv digitale resta e 143 però non diciamo la data perché la confermiamo tramite la locandina che metteremo su facebook va bene allora questa qua è roghi ciao roghi fatti vedere in televisione ehi ciao sono roghi come state va bene che devo dire un bacione a tutti quanti noi ci sentiamo al prossimo video messaggio devo ringraziare a tanti sms che sono arrivati devo ringraziare a tanti messaggi sulla chat di facebook e anche in europa in italia da tutte le parti che vogliono vedere questo cortometraggio con tanti ospiti illustri con tanti attori con tante persone veramente brave anche persone per la prima volta che hanno partecipato a questo grande evento che dire un bacio da entro sorrentino prossimamente alla locandina prossimamente video messaggio vi manderò un altro video messaggio tra non molto e poi parleremo e poi c'è anche un'altra cosa che parleremo del mio prossimo cortometraggio l'abbandono sui cani che sarà come lettore roghi eccolo qua che si faccia via mano e poi ci sarà anche un altro cani molto bello che lo gireremo in campagna e poi alla prossima lo presenteremo in tv a livello mondiale un bacione da entro sorrentino alla prossima occasione ciao 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 bacio 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 ok ciao ciao